Buongiorno a tutti! Ciao a tutti, oggi facciamo una nuova settimana, un nuovo video del Vlogmas e adesso andrò a leggere le luci del mio alberello. Ciao a tutti! Ciao a tutti! Adesso vado da Lancan e lo preparo. Ciao a tutti! Ciao a tutti! Abbiamo fatto un esercizio abbastanza complicato perché abbiamo fatto prima una doppia gabbia ed era abbastanza grande come doppia gabbia quindi io faccio un po' fatica con Lancan a coprire. Quindi però ce l'abbiamo, ce la siamo cavata e era un po' in avanti e poi abbiamo fatto un esercizio in cui bisognava invece avere un po' più di controllo nel senso di tenere e con delle curve abbastanza strette che io andrò faceva un po' fatica a farle però ce la siamo cavata abbastanza bene dai. Quindi nulla, sono abbastanza felice e basta. Buongiorno a tutti, oggi è sabato mattina, io sto facendo le video lezioni, sono ore 10 quindi ho già fatte due. Ora abbiamo un'ora di supplenza quindi mi sono portata avanti stra bene coi compiti e nulla, basta. Oggi è pomeriggio, non so se andrò in maneggio, dipende un po' se piove, se ho voglia e se devo portarmi avanti bene coi compiti. Però domenica mattina di sicuro perché la viti monta e io ho fatto vedere così per fare le compiti. E purtroppo non ho il video della lezione di ieri, pensavo di avercelo e mi dispiace come cosa perché a me piace un sacco vedere, cioè sentire sotto il video i consigli, i commenti positivi, i negativi, tutte queste cose qua. E nulla, speravo di averlo perché era abbastanza difficile la cosa che avevo fatto quindi mi sarebbe piaciuto sentire, cioè risentire il video. Però vabbè, quindi non ho nulla da postarmi, cioè non ho nulla da mettere, però domenica di sicuro ci saranno quelli della viti. Buon pomeriggio a tutti, sono le 5 più o meno, io ho fatto i compiti tutto il pomeriggio, infatti non sono andata in maneggio anche perché in verità non avevo molta voglia visto che piove ancora, mi sa, c'è proprio brutto tempo e fa freddissimo. Quindi nulla, già che devo andare domani, preferisco andare domani e basta. E nulla, io sto studiando, sto finendo di fare agronomia per la verità. E cosa vi posso dire? A casa mia mamma, perché sono mio papà adesso, ha colorato la cuffietta, perché praticamente mia mamma mi ha fatto una cuffietta all'uncinetto, però era beggiolina. E io invece la volevo nera, perché mi servirebbe da mettere in gara con il sottosella a bordo col bordino nero. Quindi spero sia uscita bene, non mi ha ancora mandato foto né niente perché sta facendo la lavatrice, perché sono i colori che si mette la lavatrice. E quindi nulla, non mi ricordo cosa stavo dicendo, però se è uscita bene tutta nera come la volevo io, ci attacco il cordino con i brillantini, che ho già comprato, sono stra belli. E nulla, così almeno poi in gara possiamo mettere la cuffietta. E' un buber coccolone, lantanone. Buongiorno, noi siamo qua con lantanone e licia è domandata mattina. E oggi convinceremo licia ad andare in gara con lantanone. Licia è felice dalla cosa. La wiki monta dopo, alle 11, quindi ora guardiamo l'antanone e poi guardiamo l'axima. Sì, quindi ora aiutiamo la licia a sellare, dai, perché sono delle bravi persone. Ciao! Ciao! Che carino! Ciao! 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 Cioè io, io, gliel'hai detto? Io sì! Ah! Sì! Credo che sì! Gliel'hai detto? No! Credo di essere! No! Penso che abbia capito! Stavo facendo il video per piare! Sì, io ci sono! Come un poveriggio, io ho appena finito la doccia e mi sono appena asciugato i capelli, sono le tre e mezza. La lezione è andata molto bene, abbiamo fatto un esertizio con le croci, era molto carino, e poi alla fine abbiamo alzato, abbiamo messo le verticali. Mi ha messo le verticali, ha fatto due cagate oggi. Secondo me sono i miei calzini che mi portano sfortuna, probabili. Perché quelli lì mi portano sempre sfortuna, quindi non li metto più. Nulla, però sono felice. Un pomeriggio, io sto andando giù in cantina a prendere un gioco, tipo, una roba da fare con mio fratello e mio papà, perché mi sto annoiando un sacco, quindi top! Ciao! 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.